Buongiorno a tutti, sono in fiera all'expo della pubblicità dove espongo come dealer Roland. Abbiamo tutta la serie di stampanti di nuova generazione serie TrueVis e vi voglio far vedere un attimo la nuova resina, la P640. Qui abbiamo le cartucce, abbiamo l'optimizer che è l'inchiostro che viene stampato come primo colore, che è un trasparente, per rendere il materiale stampabile con gli inchiostri a resina, sono delle cartucce da 750 ml. Poi abbiamo il forno che serve per fissare l'inchiostro che a differenza di altre soluzioni presenti sul mercato è stato concepito per non disperdere calore, infatti quando la macchina è in stampa il forno rimane completamente freddo, quindi è assolutamente ottimizzato. Ha un formato di 160 cm di stampa e viene gestita sempre tramite il monitor da 7 pollici, in italiano dove abbiamo tutte le informazioni che ci servono per poter lavorare tranquillamente. Si tratta chiaramente di una macchina molto performante, infatti andiamo fino a 17 metri quadrati ora, permette quindi di fare produzioni anche interessanti. È dotato di riavvolgitore di serie che riesce a ottenere fino a 40 kg di materiale riavvolto. Ed è una novità assoluta perché è il primo modello di stampante a resina con certificazioni Green Guard Gold di massimo livello per poter anche fare installazione di stampati in ambienti interni dove sono richieste le certificazioni più alte. Quindi questa è la prima volta che viene esposta in Sicilia, anzi, potrei dire in Italia, perché è la prima fiera dove questa plotter viene esposta e può essere vista dai clienti. E niente, sono molto orgoglioso di averlo qui e poterlo provare in prima persona. Quindi poi seguiranno magari dei video un po' più dettagliati, ma questa è proprio una prima informazione veloci per introdurvi al mondo della resina Roland. Ciao a tutti!